Agosto nel segno dell'arte a Barletta lo attesta la mostra fotografica Interi, matto conclusivo del progetto Barletta Bibliohub portato avanti dalla Biblioteca Loffredo e dal Comune con la partnership del FIOF. Hanno aderito grandi nomi come Francesco Cito, come Diego Pizzi, come Roberto Colaccioppo e ci sono stati anche altri che purtroppo non sono stati presenti perché è del nord Italia e quindi sicuramente hanno dato un contributo forte di conoscenza della fotografia dalle origini ai nostri giorni. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito del piano Cultura Futuro Urbano, volto alla rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di attività culturali e creative. Nel progetto Biblioteca Casa di Quartiere è stato svelato alla presenza di eccellenze del mondo della fotografia come il maestro Francesco Cito, Diego Pizzi e Roberto Colaccioppo. La mostra si articola on-site nei sotterranei del castello e online attraverso virtual tour. Nel titolo Interim c'è il senso del lavoro proposto, un incarico temporaneo che ha permesso di trasformare cittadini, studenti e appassionati in artefici di storytelling della periferia urbana. Sono stati predisposti attraverso dei bandi pubblici ragazzi per corsi laboratoriali che prevedevano corsi di fotografia e postproduzione fotografica, corsi di video e postproduzione video e iPad. Con la pandemia abbiamo dovuto rimodulare tutta la progettualità presentata inizialmente e quindi abbiamo previsto invece di predisporre iniziative in presenza abbiamo dovuto per forza di cose prevedere qualcosa che fosse virtuale che quindi permettesse la gestione da remoto. E quindi abbiamo previsto un portale attraverso cui i ragazzi hanno potuto interfacciarsi con i docenti. I partecipanti come protagonisti e narratori del quartiere che raccontano profumi, vita, storia e architettura. Ogni ritratto riporta una frase della Divina Commedia, un omaggio a Dante e un modo per portare conoscenza e sapere fuori dal loro spazio naturale. Tutti grazie soprattutto ai ragazzi che hanno reso possibile questa meravigliosa mostra, un corso di formazione sulla fotografia realizzato dal FIOF ma soprattutto da grandi maestri della fotografia. E avevamo la necessità di raccontare la 167, il territorio per alcuni versi spoglio ma anche nuovo della città di Barletta e hanno intercettato molto bene attraverso immagini direi qualche volta architettoniche, qualche volta paesaggistiche, altre che rappresentano soggetti, che giocano, si divertano, hanno pensieri nella testa. Tutto questo è la 167. La mostra Interim sarà accessibile fino al 15 agosto ma il lavoro con i giovanissimi è destinato a proseguire per un bilancio. Assolutamente positivo anche perché abbiamo accompagnato i ragazzi dopo la formazione professionale a conoscere tutti gli strumenti, anche normativi, che possono essere utili per poter attivare start-up o delle imprese. Mi dicono gli insegnanti che c'è la volontà dei ragazzi di istituire una cooperativa e che quindi darà contenuti al progetto.